Molto spesso all'interno di molti dei miei video vi parlo di limiti e di come cercare di superare questi limiti. Insieme a Isabella Masciulli abbiamo pensato a un percorso che vi possa consentire un miglioramento personale, un percorso di crescita personale orientato soprattutto al superimento dei nostri limiti. Ma che cosa sono effettivamente questi limiti? Sono quelle cose che noi tentiamo, che cerchiamo diciamo di migliorare ma che invece rimangono come dei blocchi personali. Magari proviamo a cambiare lavoro però non ci riusciamo, siamo fermi, siamo bloccati perché la nostra situazione comunque ci fa stare bene così com'è. Oppure ancora sono quelle situazioni in cui noi proviamo magari a migliorarci a scuola, all'università o in altri contesti ma non ci riusciamo. Oppure proviamo magari a dimagrire però è una cosa che non ci riesce, ci sentiamo bloccati, limitati. Quindi vedete che il concetto di limite è molto grande. Tuttavia quello che noi abbiamo pensato, quello che io penso all'interno dei miei percorsi di terapia e non solo è quello di capire meglio i nostri limiti personali, migliorarci e cercare quindi di andare oltre. Solo attraverso un percorso di maggiore consapevolezza c'è possibile effettivamente andare in un'ottica di cambiamento, in un'ottica di miglioramento e poi stare bene con noi stessi, sentire l'autostima che aumenta. Riesco a fare delle azioni che mi consentono di cambiare lavoro e quindi riesco poi anche a entrare nel flusso e a cambiare effettivamente lavoro. Tra 15 giorni, il 18 giugno, vi sarà un evento dedicato proprio a queste tematiche, quelle della crescita personale, quella del miglioramento personale e partendo da un concetto chiave che è quello di valore personale. Ognuno di noi ha dei talenti, ha delle potenzialità, ha delle aree che magari non credi di avere ma che sono quelle che la differenziano dalle altre persone. Questo è un percorso di autoconsapevolezza oppure all'interno di un percorso di terapia si va a scoprire i valori personali e a porli all'interno di un'ottica di cambiamento e di miglioramento. Rimani collegato, segui la mia pagina perché ci saranno tutte le news dedicate proprio all'evento del 18 giugno. Per maggiori informazioni contattemi al 340-4190-915. Grazie.